Allora, intanto la situazione è una situazione complessa che si porta dietro anni di tensioni, di rivendicazioni, però ecco, cosa ti ha colpito in particolare, cosa ti ha spinto anche a prendere e partire per questi territori? Beh, sicuramente un attimato nell'attentato del 20 luglio al Centro Culturale Amara, a Shukuch, mi ha profondamente segnato e mi ha profondamente truccato. L'interesse per la causa kurda comunque nasce prima e negli ultimi mesi ho seguito gli sviluppi che ci sono stati nella regione, in particolar modo dal gennaio 2014, i tre cantoni dell'Eronia Valle hanno dichiarato l'autogoverno, sottoscrivendo la carta dell'economia sociale e da lì in avanti si è iniziato un percorso per riuscire a conoscere una società basata sulla dignità delle persone, sulla uguaglianza stessa nei diversi strati della società, sull'ecologia, sulla parità dei sossi. Questo percorso è stato interrotto il 15 settembre del 2014 con l'attacco dell'Isis alla città di Cobane, una città che contava 100.000 abitanti e al momento ne conta solamente 6.000, di cui 1.000 bambini. Città che è stata nel corso dei 134 giorni di assedio quasi completamente distrutta, più del 90% degli edifici sono trollati, tra cui ci sono tutte le scuole, gli ospedali, tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento della vita quotidiana. In tutto questo i purdi sono riusciti, dopo appunto 134 giorni, a respingere l'assedio e a liberare la città, nonostante gli ostacoli imposti dall'esercito e dalla polizia turca che ha impedito il passaggio attraverso il confine turco-siliano e gli aiuti necessari per riprendere il normale svolgimento della vita all'interno della città di Cobane. Sicuramente siamo di fronte a una realtà che ha lottato e che sta continuando a lottare per la libertà e per la dignità delle persone e che si trova in questo momento assediata sui posti a sud dalla Siria e la pressione dell'Isis e a nord dopo appunto l'attentato del ventino e gli attacchi diretti da parte dell'attacco. Questa carovana cosa cercherete di fare? La carovana ha l'obiettivo principale di riuscire ad arrivare a Cobane il 15 settembre con un convoglio umanitario di medicinali da portare in sostegno ai 15 medici e ai 30 infermieri che in questo momento in un ospedale da campo forniscono l'assistenza sanitaria necessaria alla città. Ovviamente si trovano in grossissima difficoltà per il fatto che non riescono ad avere approvvisionalmente e rifornimenti dalla città più vicina che è in Luce e che si trova in territorio turco e quindi noi chiediamo al governo turco di aprire il confine per mettere in passaggio del convoglio umanitario per permettere di portare lì fisicamente gli aiuti necessari. Che sono i promotori? Allora la carovana è stata lanciata dalla comunità kurda internazionale in Italia rappresentata da rete kurdista in Italia Wiki Onlus e era stata lanciata già prima dell'attentato del 20 luglio e è stata rilanciata in seguito all'attentato e in seguito agli sviluppi successivi alla stessa. Con tutto spirito parte, non si può forse risolvere in pochi giorni una situazione storicamente difficile però che messaggio volete dare? Sicuramente è una situazione che va avanti da tantissimi anni e gli sviluppi degli ultimi anni facevano ben sperare per una soluzione diplomatica la tregua dichiarata durante il Nuro del 2013 è stata rispettata fino all'attentato del 20 luglio e si sperava di riuscire a trovare attraverso la forma del federalismo una soluzione pacifica e diplomatica alla questione kurda. Soluzione che in questo momento sembra sempre più lontana anche in virtù degli ultimi aggiornamenti che riportano attacchi da parte delle forze nazionaliste turche contro la comunità kurda in tutto il territorio kurdo. Speriamo di riuscire a svegliare l'opinione pubblica e l'interesse da parte dei governi affinché si riesca a dire chiaramente e a condannare informamente l'operato dell'HFP e del governo di Erdogan che in questo momento ignorando il risultato elettorale continua a governare come se avesse una maggioranza assoluta maggioranza che ha perso durante le elezioni del 7 giugno. Chiediamo quindi alla comunità internazionale, ai governi, all'opinione pubblica di mobilitarsi, di far sentire la propria voce e di condannare sicuramente l'operato della Turchia nei confronti della comunità kurda internazionale.